Intorno alle 19 di ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti in contracci scati a Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, per un'auto finita rovesciata. Ferite due giovani donne. I pompieri a corsi da Asiago hanno messo in sicurezza l'auto finita capottata, mentre le due donne sono state prese in cura dal personale del SUEM per essere trasferiti in ambulanza all'ospedale di Bassano del Grappa. Al momento dell'incidente sulla zona gravava una fitta nebbia. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 21 e 30 con il recupero dell'auto da parte del carroattrezzi.